Caro figlio adorato, tu diventerai un vero giocatore professionista Finalmente è arrivato il giorno in cui potrò mostrare a mio padre il valore di suo figlio Shingo Tamai Non ti deluderò papà, saprò farmi apprezzare Papà, tu hai voluto lasciarmi questo pallone in tuo ricordo ed io lo terrò sempre vicino a me Che caro Non c'è bisogno di piangere tanto Kimi, non va miglia in guerra quel ragazzo Oggi è il giorno in cui il nostro Shingo scenderà in capo contro la squadra più forte del mondo Dobbiamo essere orgogliosi di lui e cercare di incoraggiarlo un poco Otto Cicchi, io non ci riesco a trattenere le lacrime Shingo Papà Volevo ricordarti che tuo padre Nagata è felice di vegliarti da lassù Ma tu cerca di non deluderlo Shingo, per favore passami per un attimo quel pallone D'accordo Tieni Signor Nagata, protegga Shingo Noi lo amiamo molto Grazie papà Ehi Shingo E' tua Mamma, papà, saprò farmi valere Mamma, papà Mamma, papà Ken Dica Sei andato a trovare tua madre, è vero che anche tu l'hai cercata? Rispondimi Ken Sì, è proprio così signor Beret Allora l'hai vista? No, non ho potuto vederla Sono veramente dispiaciuto che tu non abbia potuto abbracciare tua madre Prima di questo importante incontro di calcio Credi, Ken Ti auguro di vederla presto Grazie Mamma Non lascerò che ti tengono in prigione a lungo Diventerò uno dei più grandi calciatori professionisti Mamma, verrò a prenderti Non vedo l'ora che i nostri giocatori sennano in campo Che diavolo succede? Cosa diavolo ci fanno questi ragazzi qui? Ken Santo Ken Santo Ken Santo Oh bello Ma quando cominciamo? Tutti questi festeggiamenti sono per la squadra C6 Guarda, evviva, evviva la C6 Guarda, evviva, evviva la C6 Guarda, evviva, 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 evv Sì, sì, sì. Sì, sì. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Sì, mollate la palla. Non lasciatelo scappare, Ayase, non mollarlo. Cerca di levargli la palla, forza. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Camionca, sei ferito, perché? Sì, mi dispiace, Scemo. Non riteniamoci! Forza, ragazzi, all'attacco! Distruggiamo voi! Fattemi sotto, datevi da fare! Hanno già segnato un gol! Facete, fattemi voi, della Cisei! Ottimo! Insurgi, passala! All'attacco, provate ora! All'attacco, provate ora! Bravo, Tamai! Hai pareggiato! Ottimo tiro, Tamai! Bravo! Molto bene, Tamai! Sei in gambo! Tiva, Tamai! Tiva, Tito! Col'è, Tito, Tamai? Il primo tempo è finito in parità, ragazzi! La partita è ancora aperta! Te, devi giocare meglio, datti da fare! Nel secondo tempo quel risultato dovrà assolutamente cambiare! Devi dimostrare a tutti che noi siamo i più forti! Pensa alla tua promozione a giocatore professionista! Pensa al tuo ritorno in Brasile! Tamai, lo sapevo che eri un bravo giocatore! Però non devi forzare quella tua gamba, devi stare molto attento! Sì, è veramente molto bravo! Bravo, Shingo Tamai! Tamai! Eccomi! Tamai, voglio complimentarmi con te per quel tiro eccezionale, ma ricordati della tua gamba! Eh? Tamai, se ti infortuni un'altra volta hai veramente chiuso con il calcio! Lascia segnare un altro tuo compagno di squadra! Tu hai già fatto abbastanza! Ho fatto il mio dovere, signori Yagashi! La nostra nuova formazione sta dando dei buoni risultati! Non mollate proprio adesso! Cercate di stringerli in un attacco decisivo e veloce! Sì! Tamai abbiamo tutte le carte in regola per uscirne vincitori da questa ultima partita di campionato! La più grande aspirazione della Shinsei è quella di diventare la più famosa squadra del mondo! Non lo dimentichiamo! Ragazzi, ricordatevi di fare un gioco leale! Non dimenticatevi le regole del calcio! Forza, campioni! Correa! Sotto! Quello che ha detto il signore Yagashi non mi riguarda! L'importante è vincere la partita! Non mi interessa se il piede destro si spezzerà! Noi dobbiamo mostrare la forza del calcio giapponese! E' questo che conta per noi giocatori! Dobbiamo battere la squadra brasiliana! Non mi interessa! Bravo, hai segnato di nuovo! Questo è veramente un tiro da professionisti, Ken! Ben Santos, non cantare, Vittoria! Non riuscirai a battere cingota mai! Capisci? Bella parata, Camioca! Sei un portiere formidabile! Moltezza... Insieme! Giorno! Ambo! Sotto! È una cosa! Poi tengono a spiace! Fett Почему? Fatevi sotto, brasiliani Fatevi vedere se siete capaci di togliermi la palla Fatevi vedere se siete capaci di togliermi la palla Non abbiamo tempo sufficiente, ho paura che la partita finirà con un pareggio Ti basterò tramai Non farti illusioni, Kent Non aparezzi ah 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Signori Agashi, abbiamo vinto la partita. I nostri giovani campioni hanno avuto la meglio sulla potente squadra brasiliana. La tecnica e la preparazione atletica di Tamai hanno permesso alla nostra squadra di vincere. Possiamo guardare con altri occhi il mondo calcistico che ci circonda. Signori Agashi, ho apprezzato il coraggio di Tamai e dei suoi compagni. Penso che quello che ci serviva per spronare i nostri calciatori, per diventare professionisti, mirando non solamente alla forza fisica, ma anche alla forza spirituale. Ho imparato molto dal gioco di Tamai. Abbiamo vinto Tamai! La squadra della scuola cinzei ha battuto i brasiliani! Si è stato grande Tamai! La squadra della scuola cinzei ha battuto i brasiliani! Come ti senti? Molto meglio, grazie. Tamai ti avevo detto di stare attento. Pur di batterli ero pronto a tutto, signore. Hai rischiato troppo, ragazzo mio. Sei stato molto coraggioso. Signor Mazzucchi, ammetto di aver fatto un po' troppo di testa mia, lo so. Sei stato bravissimo Tamai, congratulazioni! Tamai ho incontrato Kene, mi ha chiesto notizie sul tuo piede. Lui parte domani per il Brasile. Ne è proprio sicuro. Ken Santos lascia il Giappone domani. Ritorna nella sua terra con la squadra al completo. Chissà se è riuscito a incontrarsi con la madre prima di partire. Shingo, mi hanno detto che lascerà il Giappone, anche se non ha ancora potuto vedere sua madre. Cosa mai gli sarà successo? Perché Ken ha deciso di partire così in fretta. Ken. Salve Tamai. Perché parti senza vedere tua madre? Dopo la sconfitta subita non ho più il coraggio di farmi vedere da mia madre e cerca di capirmi Tamai. Io spero che tu torni presto in Giappone, Ken. Dovrò giocare una partita molto importante in Brasile. Dopo quell'incontro tornerò in Giappone per vedere mia madre, te lo prometto, Shingo. Bene. Ci rivedremo presto Tamai. Ciao. Ken. Per favore, forza questa palla con te. Ken, salta. Questa palla ti porterà fortuna. Ricorda, non lasciarla mai. Questo è il mio regalo. Per non dimenticarti di me. Sei un vero amico. Grazie. Grazie Tamai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.